Grazie Presidente. Dalla risposta del Sottosegretario Turba trovo conferma dell'imbarazzo della Giunta. Mi fa piacere che sia stata la Giunta e che quindi ci ha visto anche la Giunta qualcosa che non funziona in questa operazione, se ha chiesto a ORAC di approfondire. Io credo che se c'è un punto che la Giunta deve rendere netto ai propri direttori generali è che non si umiliano i professionisti con giochini di questo genere. E vi assicuro, per chi ha fatto l'università e si è fatto i cinque anni di università in Italia e presso le nostre università, è proprio un'umiliazione e un'offresa che un signore si recupera la laurea appena come può e poi addirittura li deve dirigere. È imbarazzante ed offensivo nei confronti dei tanti professionisti che in questi mesi hanno dato il massimo della loro professionalità, il massimo delle loro energie e il massimo del loro rischio di vita per la salute dei cittadini lombardi e milanesi. E non si umiliano con le promozioni dei sindacati gialli e dei finti laureati. Grazie.